Ammontano a 2 milioni di euro le risorse assegnate dalla regione toscana per eseguire lavori urgenti di manutenzione sulle strade di 43 piccoli comuni. Nelle immagini vedete la presentazione del provvedimento ai sindaci che hanno firmato i protocolli d'intesa nella sede della presidenza regionale di Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze. Gli accordi prevedono che la Toscana cofinanzi ciascun intervento fino all'80% e comunque non oltre i 50 mila euro. I lavori dovranno essere messi in cantiere entro il 31 maggio 2019 mentre la fase di collaudo dovrà avvenire entro il 31 dicembre. I comuni che hanno siglato i protocolli sono tutti di piccole dimensioni e si trovano nelle province di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massacarrara, Pisa, Pistoia e Siena.